E' fatta il resto al Copreglior, ho deciso di seguire il mio cuore. Così il campione di pallavolo Zlatanov ha annunciato che non lascerà la squadra e nemmeno la città di Piacenza. Nonostante le offerte arrivate dall'estero, in primis Russia, Brasile e Turchia e in Italia da Latina, il Biancorosso proseguerà l'esperienza nel Copreglior, dove si appresta a giocare l'undicesima stagione. La decisione è stata maturata ieri dopo l'incontro con il presidente Guido Molinaroli, al termine del quale è stato trovato l'accordo. Zlatanov giocherà a campionato Champions League ancora con la maglia numero 11 del Copra. E' stata una scelta dettata molto dal Copra. Star bene in una grande famiglia, questo ha sicuramente prevalso sulla mia scelta, perché dal lato economico non c'erano grosse divergenze sul fattore economico. Quello che è prevalso è l'attaccamento alla maglia della città e a riuscire a dare un senso ai dieci anni trascorsi a Piacenza. Nessuna offerta né dall'estero né da Latina sono riuscite a conquistarti? Sono due cose diverse, nel senso che all'estero, alla mia età prevalentemente si va soltanto per una questione economica. Fortunatamente potevo scegliere e sono orgoglioso di aver fatto la scelta giusta e sono sicuro di questo. Non vedo l'ora prima di andare in vacanza, ma nello stesso tempo non vedo l'ora di iniziare, perché sembrerà strano, ma gli stimoli e la voglia di ricominciare non manca mai.